Davanti al portone d'ingresso della parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Santo Onofrio sono affissi i nomi dei portantini sorteggiati nelle scorse ore. Così ha deciso il vescovo Luigi Renzo dopo i fatti dello scorso anno quando, per presunte infiltrazioni mafiose, la tradizionale processione dell'affrontata venne prima sospesa per poi essere annullata tra il malumore e l'ira dei suoi abitanti. Cittadini che oggi quasi non vogliono più sentir parlare del passato, una comunità concentrata sul presente e sulla processione che domenica animerà le strade del centro alle porte di Vibo Valencia quando le statue di San Giovanni e della Madonna si incontreranno per annunciare la resurrezione di Gesù Cristo. Tutto secondo tradizione ma con qualche aggiustatina al regolamento, nessuna sosta davanti alle case dei boss e niente incanto per stabilire chi porta la statua ma un'estrazione dei nomi, queste le due principali novità introdotte dal vescovo della diocesi di Mileto Nicotra Tropea e accolte favorevolmente dalla comunità cristiana santonofrese. Santonofrio, soprattutto l'affrontata è tradizione, cultura, fede e arte. Noi santonofresi abbiamo una grande storia e ci onoriamo di questo. Tutto, ecco, è il caso di dirlo, il mondo deve sapere che Santonofrio è un paese di grande civiltà, di grande storia, di grande cultura. Quest'anno i portantini sono stati sorteggiati? Ah sì, va bene. Come fanno? Basta che fanno l'affrontata, quello che fanno fanno. O sorteggio, non sorteggio, io sono sempre contento. È una nostra tradizione, è la nostra cultura l'affrontata. Di conseguenza va fatta senza sé e senza ma.